Sì, questa è la nota che mi avete dato voi ieri, signore. Riscontrato voi stessa. Se ci manca qualcosa, donna Rosa, non è colpa mia. È questione che a capa non è più quella di una volta. Non poca miseria, non poca la tarantella che faccio dalla mattina alla sera con gli inquilini, donna Rosa che io. E ma che brutto sonno che mi sono fatta stanotte. Adesso me lo sto ricordando. Stavo qua in cucina e pulivo i broccoli per la cena. Poi, stavo seduto proprio qua, vicino alla finestra, con i piedi appoggiati sopra un'altra sedia. Ammonnato i broccoli e mettevo tutte le cimentelli intorno alla terra, come faccio al solito. Quando tutta la cena, all'interno la foglia esce una verba. Una verba? Allora, non fermi anche, con la capuzella nera. Ma guarda, Maurizio. E' brava. E' ma per cosa tu? Sono rimasto senza casa. Non fa niente, è stato buono. E dove vai la genetica? La tua ciaiva, vado in chiesa, mi inginocchi e prego. Allora vengo pure io, ti accompagno. E siamo usciti insieme. Siamo usciti insieme. Ah, tutti in un momento è venuto a piovere. Una pioggia, ma una pioggia. Ho fermo, ma guardate, ha detto. E che mi importa? Io tengo un prezzo. L'ha aperto. E dopo poco ci siamo trovati fuori alla chiesa. Eh, la porta grande è chiusa. E se mi ha guardato, ha detto. Io entro lo stesso. Eh, perché posso strisciare per sotto la porta? Eh, e io? E tu riesci fuori, che ha già fatto? Aspetto che si apre la porta. Overe? E sta piovendo. Pile d'ombrelli, aspetto. E strisciando, strisciando per sotto la porta. E' entrato in chiesa. E non l'ho visto più. E ora che aveva fatto? Ha già aperto l'ombrella e mi sono messo a camminare. Mentre camminare, camminare, sempre con l'ombrella aperta. Mi sembriva una goccia d'acqua che mi cadeva in mezzo alla testa, sempre allo stesso posto. tocco. Toc K K To K To K To Pensavo l'ombrella di essere sfornata e ci deve essere il pertuso. Quando tutta stiamo signor, la goccia d'acqua è attivata a fuoco. Ma signor lei che stava nero, mi ha fatto un pochino in testa e si è intromessa dentro. Prima mi ha bruciato la lingua, poi lo stomaco e poi i palmoni. A un certo punto a gentile si è strillato, a me non mi ha bruciato. Era il cuore mio che per non essere bruciato, se ne è uscito dalla pancia e si è messo a correre. Fermati, strillavo io, fermati, io con le gambe senza il cuore. Mentre mi parevo con questo tipo, se ne scappavo una volta. Finalmente, tutta assurata e stanga. Ho girato per una strada. E mi sono trovato le facce, ho fermato una volta. E come mi ha detto, si devo salvare, prendere la rivoluzione. E sparare a chi lo pizzerà che è stato sottato dentro la marcia a piedra. E come infatti, io l'ho sparata. E ora, sapete qual'è? Che non appena l'ho sparata, dopo sempre mi ha diventato una fungione. Ho fermato. Tieno sedo. Tieno sedo. E bevi. Io mi sono misa a bevere. Signor, quello non era acqua. Era sangue. Sangue. E io bevevo. 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 Tutto sangue che mi scorrevo. Non mi faccio ricordare. Mamma mia. Che impressione. Grazie, son. Mi hai fatto il tuo stomaco.